Si è svolto a Roma un incontro tra il capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, ed il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, per affrontare il tema del rimborso dei danni subiti anche dalle imprese agricole in seguito alle alluvioni che alla fine del 2014 colpirono pesantemente in due momenti differenti, a ottobre e novembre, il territorio ligure. Nelle sostenere che le legittime aspettative dei cittadini colpiti e danneggiati non possono essere messe a rischio a causa di problematiche di natura meramente procedurale, si è condivisa la necessità di lavorare congiuntamente e in tempi brevi a definire la necessaria norma primaria, che dovrebbe consentire di superare le sovrapposizioni e garantire a tutti gli interessati un trattamento omogeneo, sciogliendo i residui nodi rimasti sul percorso amministrativo. Ora mi auguro, ha dichiarato il governatore Ligure, Giovanni Toti, che tutti i rappresentanti istituzionali e tutti i gruppi politici della Regione diano il loro contributo in tutte le sedi affinché i cittadini e le imprese abbiano le risposte che meritano ed i rimborsi che sono dovuti. Pronta la risposta da parte dei consiglieri regionali del Partito Democratico, Raffaella Paita, Luigi De Vincenzi e Giovanni Barbagallo. Il presidente Toti nega ancora una volta l'evidenza e di fronte all'errore palese commesso dall'assessore Mai hanno detto che sbagliando a compilare la domanda ha tagliato fuori le aziende agricole dai risarcimento governativi per l'alluvione del 2014, continua a parlare di problematiche di natura meramente procedurale. Adesso la Giunta dovrà trovare una soluzione differente, anche di fronte al fatto che i danni denunciati dalle aziende agricole siano pari a 16 milioni di euro, una cifra assai ragguardevole.